Ciao Pierino, fermati, quanta fretta! Ah, vedi che roba! Come sai rimuovere di qua e dell'arte! E' proprio la fine del mondo! Siamo, Pierino! E tu invece che cosa vuoi fare da grande? Quello che fa mio padre! Bene, dunque vuoi proseguire una tradizione familiare! E che cosa faceva tuo padre? Quello che faceva mio nonno! E tuo nonno che faceva? Non faceva, faceva tutto mia nonna! Pierino, basta! Signor Gallo, signor Gallo, signor Gallo, mi scusi, pardon per le spalle, un attimo su... Senta, ma è vero che lei fa le uova? Io le uova? Perché son matto! Ma te male che per 150 lire mi faccia fare un culo così! Ah, grazie!